sposarsi con tanti capelli ebbene sì oggi siamo qua con un nuovo allungamento per fare per fare un impontimento quindi andiamo a ricreare massa su questi capelli per dare alla nostra sposa un super raccolto e ha deciso di dare più spinta alla quantità dei suoi capelli proprio perché quando farà il suo raccolto sarà un semi raccolto e aveva proprio voglia se poi vedete abbiamo anche messo delle schiariture leggere quindi non siamo andati a schiarire i capelli ma abbiamo creato questo effetto luce con l'allungamento in modo stranaturale così quando lei andrà a raccogliere i suoi capelli avrà volume e avrà anche un effetto leggero di schiaritura abbiamo preservato i suoi capelli non abbiamo colorato ma abbiamo adattato il colore dell'allungamento a ciò che ci serviva poi per il suo raccolto e abbiamo dato volume a questa chioma stupenda pronta per essere raccolta e per sposarsi ragazzi guardate qua che meraviglia perché logicamente loro hanno bisogno di essere idratati perché sono capelli sono tanti capelli e sono capelli leggermente schiariti quindi li devi trattare come se tu avessi fatto un chacuscia e come se tu avessi tanti capelli da trattare quindi non aver paura di idratarli cosa importantissima poi ci puoi fare veramente di tutto appunto palestra piscina mare bravissima puoi anche lavarli tutti i giorni non aver ansia non aver paura se non hai voglia di lavare loro puoi lavare tranquillamente la parte alta e questa zona la ravi il giorno dopo tratta liberamente come fossero i tuoi sono capelli veri eccoci qui la nostra chioma è conclusa e guardate che meraviglia il colore è perfetto lei potrà avere un suo raccolto quindi potrà essere una super sposa con i capelli lunghi folti e leggermente sfumati guardate che meraviglia questo è il raccolto che più o meno lei farà quindi sarà una sposa con un semi raccolto e tutta questa lunghezza lei non l'aveva prima quindi anche se avete bisogno di sposarvi avete capelli corti e non cresceranno durante questo periodo non abbiate paura perché questi allungamenti così sottili guardate che belli non riesco neanche a trovarli io guardateli possono tranquillamente essere portati anche al vostro matrimonio perché sono super sottili non si vedono e si possono raccogliere tranquillamente e questa è la sua super chioma ragazzi